Salve raga, finalmente sul mio dispositivo lolly può arrivare l'assistente Google, finalmente che è arrivato, dice lo sta facendo adesso, giustamente lo sta aggiornando anche Google, visto, se andiamo a cercare, che ne so, assistente, che non so dov'è, ma comunque ce l'ho, l'importante è che ce l'ho già, e il mio nuovo, finalmente è arrivato sulla versione mia, cioè ho visto qua l'icona di una roba, ho pensato, ed ecco, sei su YouTube, sei su YouTube, sei su YouTube, sei su YouTube, Ah, scusate raga, non va, sei su, vabbè, quando faccio la registrazione, lui non mi va, adesso lo fermo, dopo vediamo, Comunque raga, non mi va per adesso, solamente si è buggato qualcosa, non lo so, è impossibile raggiungere Google, momento, non lo so, Ah, che stupido, che mi sono mancato di una roba, giustamente, visto che è un assistente, è collegato a Google Chrome, La roba, vocale, italiano, non c'è, ragazzi, mi piaccia proprio vedere la sua, e no, su qua non c'è, è proprio, è di sistema, è una cosa di sistema, raga, perché, soltanto, quando diventa una cosa di sistema, c'è scritto, Disattivo o annullo, io di certo annullo, tipo, anche facciamo su, non so, Ecco, quello, non mi dà, giustamente, è tanto, dici, se usciamo, tipo, è disattivo, questo, è anche questo, Capite raga, che è di sistema, ormai, Di sistema, solamente, forse, mi si aggiunga, ma Google, cosa fa adesso? Scusate, raga, non mi va, finché faccio la registrazione, per... Scusate, raga, non mi va, finché faccio la registrazione, per... Scusate, raga, non mi va, finché faccio la registrazione, per... Ah, facevo quello, Google, e si sta aggiornando questo qua? Beh, adesso il mio assistente, sempre c'è anche quello di ricerca, che dovrebbe... Ma... Eh, infatti, c'è quello di ricerca vocale, che... Vediamo, andiamo raga... Ah, perché si sta aggiornando Google, è vero... No, questa cosa l'hanno raga, sulle versioni, è lollipop, che... Come la mia, 5.1.1, è vero... Google, è vero... Sì, finalmente... Adesso non posso usare, perché si sta aggiornando l'applicazione, proprio quella... Ma lì... Vedete, dov'è Gabby? Gabby? Dove sei? Io amo Gabby, lo dovete sapere... Gabby è il mio youtuber preferito, ma... Se mai, hai visto che dove sei nell'Ollipop... Ma dov'è Gabby? Gabbo... Eh, nulla... Mi arriveranno adesso anche delle notifiche... Nuove, su cui posso fare di Google... Ma che Google è, mi interessa? No, no, me lo puoi vedere... Mi sa che proprio Google Assistant si sta aggiornando... Esattamente Google è collegato a Google l'app quella vera... Si sta facendo... Si sta facendo... Adesso che... Ehm... Perché c'è il ticchio? Non lo so... Il dispositivo, forse... Google... Più... Eh, ma perché... Vabbè... A me Google è semplicemente... Google Plus non mi interessa... Questo... Vedi questo telefono, raga? Questo telefono dovrebbe essere... Quella della Google... Perché si è aggiornata una versione bella... Questo telefono, raga... Vedete, dovrebbe essere... La KitKat... Quindi dovrebbe... Oggi essere... Alla 6... Dovrebbe essere... Alla versione... Marshmallow... Questo telefono... Questo telefono... Questo telefono dovrebbe essere... Ehm... 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 Perfetto per una... Mi si è bugato... Il Play Store, raga... Ehm... Ehm... Io so che... Mi si è bugato... I chiudono i video... Unicione... Ehm... Ehm... Ehm...